ciao a tutti e bentornati a restit history come già anticipato nel primo video dell'introduzione alle crociate in questo primo video ufficiale andiamo a ripercorrere i motivi principali che hanno fatto nascere il fenomeno delle crociate a dire la verità dovrei iniziare dalla definizione delle crociate dovrei spiegare bene cos'era questo fenomeno ma voglio che siete proprio voi a farvi un'idea voglio che dopo tutti questi video che faremo insieme vi fate un'idea vostra ovviamente ci sono diverse definizioni che trovate in giro pellegrinaggio armato la conquista della terra santa la conquista di tutte le terre la riconquista di tutte le terre che erano sotto l'impero romano d'oriente che poi è andata nelle mani degli arabi e ci sono diversi punti di vista dal quale può essere vista questa crociata e la nascita delle crociate stesse di conseguenza vorrei che siete proprio voi a trarre la vostra personale conclusione io inizio con i motivi allora i motivi vorrei suddividerli in due grandi macro categorie la prima macro categoria ovvero quella delle motivazioni per le quali è il papato ad indire le crociate ovviamente le motivazioni del papato sono molto diverse da quelle dei singoli soggetti e di conseguenza la seconda macro categoria è proprio quella delle persone che partono per la guerra naturalmente un'istituzione come la chiesa ha delle motivazioni molto diverse rispetto a una singola persona che parte per un suo personale motivo per la crociata la prima motivazione del papato deve riguardare la situazione nella quale sta alla cristianità ed è una situazione molto difficile l'europa cristiana ovvero la maggior parte dell'europa continentale si trova completamente accerchiata dalle fedi diverse ad est abbiamo una situazione dove il mondo arabo il mondo islamico viene a contatto con l'impero bizantino si hanno poche occasioni in cui una delle due potenze riesce a prevalere sull'altra un esempio potrebbe essere quello degli imperatori bizantini di origine macedoni che erano molto forti militarmente e sono riusciti addirittura a prendere gerusalemme dalle mani del califato abbasside però in ogni caso questo equilibrio non viene mai a mancare fino al punto che tra le due potenze si creano davvero degli stati cuscini che vengono puntualmente presi da una o dall'altra parte ma mai superati il problema principale diventa quello dell'arrivo dei turchi selgiuchidi che piano piano riescono a prendere dei pezzettini dell'impero arabo e di conseguenza conquistarlo totalmente una volta creato il proprio sultanato selgiuchide forte militarmente grazie a un enorme numero di persone di origini turche che comunque hanno lasciato l'elite araba moltissima di loro naturalmente sulle proprie funzioni e hanno assimilato la parte dell'esercito del califato abbasside adesso si trova in una posizione in cui la preda principale diventa l'impero bizantino intanto che l'impero bizantino è forte militarmente e ha un forte governo i turchi selgiuchidi non riescono a creare chissà cosa non riescono a penetrare nelle terre bizantine ma il problema sorge alla morte di basileo secondo e i successori che si concentrano completamente solo sulla conquista dei balcani lasciando la parte est dell'impero sguarnita e oltretutto smilitarizzano la classe dominante bizantina di conseguenza non si ha più quell'elite militare che si aveva in precedenza e l'impero diventa una facile preda delle incursioni dei nomadi turchi che ormai sono diventati un vero e proprio gruppo organizzato sotto il sultanato selgiuchide e a questo punto che arriviamo al fulcro della questione bizantina quando alessio primo chiede aiuto al papa urbano secondo nella sua lotta contro i turchi selgiuchidi questi ultimi avevano già preso una buona parte della turchia quasi tutte le terre che possedevano i bizantini in turchia ma una cosa che moltissimi ignorano è il fatto che c'erano moltissimi problemi anche all'interno del sultanato selgiuchide le varie tribù turcomane combattivano tra di loro nonostante fossero sotto lo stesso sultanato selgiuchide di conseguenza alessio primo coglie l'attimo e inizia a riprendersi moltissime terre perse precedentemente e molte di loro riesce proprio a conquistarle perciò nel 1095 quando il papa indice la crociata alessio l'imperatore bizantino è già riuscito a riprendersi una piccola parte dei territori persi precedentemente naturalmente la ripresa non era completa era solo una piccola parte di tutto quello che aveva perso però era già un piccolo segno positivo il segno che il sultanato selgiuchide non era più così forte e così unito si stava disgregando dall'interno tralasciando per un attimo questa questione tra bizantini e turchi selgiuchidi torniamo a parlare della situazione della europa cristiana ad est oltre questo problema con i turchi selgiuchidi che prendono una buona parte dell'impero bizantino c'era anche il problema delle popolazioni nomadi che moltissime di loro si sono già stanziate in questi territori da molti secoli prima e continuano a spingere verso la parte europea centrale molte queste etnie molte queste popolazioni nomadi come avari come ungri come cumeni peceneghi moltissimi di loro che non si sono mai convertiti al cristianesimo cercano comunque di spingere sotto la spinta ulteriore da parte delle tribù turche di a loro volta anche queste tribù nomadi che erano venute qua in precedenza cercano di spingere ulteriormente verso l'europa centrale di conseguenza l'impero bizantino ha avuto a che fare da molti anni all'indietro anche con queste popolazioni soprattutto con le popolazioni di peceneghi guardando ulteriormente possiamo dare un'occhiata al nord europa dove la situazione per gli stati cristiani era forse la migliore dopo aver subito per anni e secoli forse l'invasione dei pagani noreni ovvero i vichinghi gli stati cristiani si sono difesi e moltissimi di queste moltissime di queste tribù di questi stati nordici hanno preso la cristianità i piccoli gruppi isolati degli stati o delle delle piccole realtà che sono rimaste comunque pagane ormai stavano per scomparire ma passiamo ora al punto più critico per la cristianità ovvero il nord africa e la spagna dopo una rapida conquista degli arabi di tutto il nord africa dove islam ha trovato una terra fertile tra le popolazioni berbere si è creato un punto di forza del mondo islamico gli emirati nord africani erano diventati molto potenti e hanno preso quasi interamente la spagna ricordiamoci bene tutte le conquiste tutte le guerre che ha fatto il famosissimo carlo martello e successivamente anche le campagne nelle quali era impegnato il car romagno per riprendersi la spagna e comunque non sono riusciti a combinare chissà quanto la maggior parte della spagna era ancora nelle mani degli islamici e non solo quello anche la sicilia cioè soprattutto la sicilia per quel che riguarda il discorso del quale parliamo noi la sicilia è proprio davanti la porta del papato perciò cercando di fare una somma della situazione la quale si trovava il mondo cristiano e quello del completo accerchiamento da parte delle fedi che erano ad essa ostili e la maggior parte dell'ostilità era rappresentata dal mondo islamico che stava crescendo con una notevole velocità e l'esempio della sicilia che viene preso e trattenuto per moltissimi anni da parte degli arabi e ovviamente del degli immirati magrebini è la maggiore evidenza dello stato di preoccupazione nella quale si trova il papato e questa per me è la maggiore motivazione per la quale il papato decide di indire la crociata a parte tutte le motivazioni che ci possano essere e che poi menzionerò ancora questa è la maggiore il papato ha paura ha paura di quello che si sta avvicinando di quello che si sta avvicinando da sud ed è rappresentato dall'espansione degli emirati islamici passiamo ora alla seconda motivazione del papato sappiamo bene che dopo la morte di carlo magno inizia un periodo in europa che è il periodo feudale per non andare troppo nel dettaglio presumo che moltissimi di voi sappiano in cosa consisteva il periodo feudale però la caratteristica principale che voglio menzionare è quella nel rapporto che intercorreva tra i vari regnanti imperatori nobili capi eccetera ovvero quello del vassalaggio questa organizzazione feudale ha creato degli effetti molto negativi per la comunità e per la società europea prima di tutto si facevano un sacco di guerre se le davano di santa ragione in ogni secondo c'era una guerra che scoppiava c'era qualcuno che conquistava qualcun altro c'era uno che dichiarava la guerra a quell'altro c'era un casino totale guerre su guerre e quelli grandi se la prendevano con quei piccoli cercavano di conquistare le loro terre ognuno cercava di espandersi in questo casino totale ovviamente quelli che subivano le maggiori conseguenze erano i ceti più bassi il papato tralasciando tutte le caratteristiche sempre più materiali che stava acquisendo non vedeva di buon occhio questo scontro tra i vari regnanti tra i vari nobili cristiani e in ogni caso cercava in qualche modo di mettere fine a queste lotte assurde interne al mondo cristiano non aveva tanti metodi ma uno dei metodi ovviamente era quello delle scomuniche e si cercava in tutti i modi di scomunicare i regnanti i nobili più prepotenti che cercavano di sottomettere tutti gli altri di conseguenza questa è la seconda motivazione per la quale il papato indice la crociata cerca di indirizzare tutte queste guerre interne al mondo cristiano di indirizzarle fuori ovvero piuttosto che uccidersi tra di loro i propri sudditi dovevano uccidere i nemici della cristianità concludendo questa seconda motivazione possiamo sottolineare come il papato non solo avrebbe fatto una cosa pia ovvero fermare le guerre all'interno del mondo cristiano ma avrebbe fatto anche una cosa molto utile per se stesso ovvero spingere queste guerre questi guerrieri questa massa di guerrieri spingerli fuori spingerli a combattere contro i nemici della cristianità vorrei fare una piccola precisazione il periodo feudale non porta alcuni benefici all'europa cristiana ma una cosa può essere utile al papato il numero dei soldati cresce a desmisura all'interno dell'europa cristiana perché ogni nobile ogni sovrano si poteva permettere e aveva bisogno di un esercito personale perciò il papato può usare tutti questi eserciti raccogliendoli intorno a sé e indirizzarli verso i propri nemici al discorso della motivazione precedente possiamo aggiungere anche un'ulteriore motivazione la terza motivazione che è quella di delle chiesa che cerca di imporsi come guida sia spirituale che terrena del mondo cristiano e dei cristiani la chiesa cattolica cerca di imporsi come protettrice dei ceti più piccoli e cerca di imporsi come guida spirituale e morale per quei ceti un po più ambienti di conseguenza cerca di unire sotto la propria alla protettrice l'ala cristiana tutti questi ceti che facevano parte della sua comunità religiosa perciò cercava di allargare maggiormente la propria comunità e non perdere assolutamente nessun territorio nessuna popolazione sotto l'avanzamento dell'islam o delle altre religioni passiamo ora alla ultima motivazione ovvero quando l'alessio primo chiede l'aiuto alla chiesa cattolica questa quest'ultima cerca di far vedere in tutti i modi la propria forza la propria unità cerca di far vedere all'imperatore bizantino che forse il grande scisma avvenuto nel 1054 è stata una cattiva idea e che forse l'imperatore e il patriarca di costantinopoli dovrebbero tornare sotto l'ala protettrice della chiesa cattolica perciò la chiesa cattolica con questa teoria ecumenistica cerca di riprendersi tutti quei territori persi da questo scisma e vorrebbe proprio che l'aiuto ad alessio che ha chiesto l'intervento dei paesi occidentali sia quella svolta che farà riunire di nuovo le due chiese come abbiamo visto le variabili sono davvero tanti consiste tutto nel dare la giusta priorità alla variabile e il giusto peso a una di queste motivazioni che abbiamo elencato perciò abbiamo parlato soltanto delle motivazioni del papato concentriamoci ora invece su quello che potevano essere le motivazioni della singola persona che partiva per per la crociata ovviamente le motivazioni sono completamente diverse il papato è un'istituzione e ha una visione molto più ampia di tutte le cose che succedono mentre il singolo vede nel suo nel suo ambiente più piccolo e trae le proprie motivazioni intorno a quello che dall'ambiente che vede circostante di conseguenza andiamo a vedere quali sono quelle motivazioni che potevano far partire un singolo soldato un singolo nobile una singola persona per la terra santa parlando di queste motivazioni che sarà un discorso un po più corto perché non è così complicato visto che adesso parliamo delle singole persone possiamo dire che c'erano principalmente due tipi di motivazioni la motivazione religiose in cui uno che voleva fare il cosiddetto pellegrinaggio armato ovvero liberare la propria meta del pellegrinaggio dagli infedeli che erano rappresentati dai musulmani partiva proprio con l'intenzione di liberare la terra santa perciò motivazioni puramente religiosi dei credenti quello che uno si sentiva dentro e questo era forse alla base della prima crociata è molto importante suddividere le diverse crociate perché le motivazioni saranno sempre diverse a variare della crociata è la prima crociata e quella crociata che rappresenta la maggio il maggior numero dei veri credenti delle persone che davvero se la sentivano se la sentivano di partire per una guerra solo per motivi religiosi per quello che sentivano all'interno oltre a questi sentimenti pi parzialmente pi naturalmente possiamo trovare altre motivazioni religiose che sono quella di ottenere delle indulgenze da parte del papato il papato naturalmente per dare una scossa per dare una spinta alle crociate ha cercato di dare di mettere come ricompensa per la partecipazione alle crociate le indulgenze ovvero la remissione dei peccati commessi in precedenza moltissime persone partivano per la terra santa con la speranza che con quello che avrebbero fatto con la difesa della cristianità avrebbero ottenuto la remissione dei peccati ovviamente qua c'è da aprire una parentesi enorme noi sappiamo bene che le prime comunità cristiane ripudiavano completamente la guerra ma questa cosa è iniziata a calare naturalmente arrivando al punto che un papa indice una vera e propria guerra santa questo poi naturalmente è un discorso ancora più ampio ma volevo semplicemente aprire questa parentesi per sottolineare che urbano secondo offre la remissione dei peccati non dice che è una cosa santa uccidere un fedele dice che semplicemente il tuo peccato dell'uccisione sarà perdonato così come tutti i peccati commessi in precedenza successivamente troviamo quelle motivazioni che sono molto meno religiose facciamo un paio di esempi si potevano trovare delle situazioni in cui dei nobili o dei figli dei nobili erano in cerca di successo perciò vedendosi aprire questo fronte di guerre con tutto questo interesse enorme che le crociate suscitavano la vedevano come un potenziale fonte di successo partivano per cercare una propria fama e un proprio successo in guerra naturalmente in tutto ciò c'erano anche quelli che andavano solamente per cercare di arricchirsi alcuni di loro potevano aver sentito delle ricchezze che c'erano ad est del mondo cristiano e cercavano semplicemente di approfittare di tutta questa situazione di tutto quel casino che sarebbe successo in effetti dentro all'interno di una guerra per potersi permettere qualche ricchezza in più oltre a questi troviamo anche quelle categorie che non hanno niente a che fare con le motivazioni religiose come erano quelli che scappavano dalla legge naturalmente una volta che si apre un fronte di guerra in un paese lontanissimo partecipare a questa guerra ti avrebbe portato lontano da tutti i guai che avevi combinato nella tua terra d'origine alcuni letteralmente scappavano dalla propria terra d'origine per cercare un qualche luogo sicuro molto lontano che era rappresentato dalla terra santa e come l'ultima motivazione personale erano quelli che lavoravano per i nobili ovvero quelli che facevano la professione dei soldati e dovevano andare in guerra naturalmente ogni volta che il nobile che li pagava lo chiedeva da loro perciò quando il nobile partiva per la guerra loro dovevano seguirlo per forza e non potevano naturalmente fare altrimenti perché erano pagati per quello era il loro lavoro alla fine cerchiamo di fare una conclusione di motivazioni c'erano davvero tante di diversa natura di diversa di diversa origine ma in ogni caso le motivazioni sono davvero eterogene e sono davvero moltissime e non solo quelle tre che avevo menzionato nel video di introduzione l'arrivo dei turchi se il giochi di richieste personali e richiesta di alessio primo al papato c'è molto altro li abbiamo visti insieme le abbiamo percorsi insieme se avete una qualche obiezione o aggiungere alcune cose che io forse ho tralasciato che è assolutamente possibile potete pure scrivermelo nei commenti sarò davvero felicissimo di sentire anche il vostro punto di vista su questo tema che è davvero enorme prima di concludere cerco di aggiungere una piccola cosa ovvero un'argomentazione che ho sempre cercato di portare avanti per quanto riguardava le crociate le crociate tra di esse sono un fenomeno molto eterogeneo e nessuna tra le varie crociate si assomiglia tantissimo ovviamente le basi sono sempre le stesse naturalmente però poi il quel che succede all'interno di una crociata è particolare per ognuna di esse e la prima crociata è particolare per il semplice motivo che era la più pura chiamiamola la più religiosa con delle motivazioni più religiose ovviamente io nell'elenco che abbiamo fatto non abbiamo dato il peso ad ogni singola motivazione ed è proprio quello che voglio fare adesso il peso principale delle motivazioni personali è quello religioso la maggior parte di quelli che partono spontaneamente sono mossi da una carica religiosa da un sentimento religioso e pochissimi sono mossi dalle ricchezze perché se facciamo un piccolo conto alla fine quelli che partivano soprattutto i nobili perdevano tantissimo c'era un sacco di esercito da mantenere un sacco di persone da sfamare i costi per quando si partiva per le crociate erano enormi erano assurdi i costi delle crociate perciò le ricchezze che uno poteva aver trovato in un posto al limite del mondo cristiano sono davvero poche in pochi mercanti naturalmente alcuni che erano di un livello un po più alto ma la gente comune non conosceva niente di quello che succedeva all'est ad est del mondo cristiano moltissimi non conoscevano che potevano esserci delle chissà quali ricchezze la prima crociata è caratterizzata dal fatto che moltissimi di queste persone singole partivano per motivi religiosi mentre per quanto riguarda i nobili anche loro mortissimi di loro partivano lasciando delle proprietà che erano di un ricchezza assurda prendiamo l'esempio di stefano di blu a o roberto delle fiandre che erano degli uomini estremamente ricchi che avevano lasciato un sacco di ricchezze non sapendo nemmeno se sarebbero tornati successivamente dopo le crociate che se sarebbero sopravvissuti in effetti oppure raimondo di saint gilet che era un uomo molto religioso e che è partito per le crociate per motivi puramente religiosi tutti questi uomini sono partiti per motivi religiosi e sicuramente non per motivi materiali ovviamente c'erano anche quelli un esempio potrebbe essere quello di alcuni nobili del sud italia che era conquistata dai normanni perciò alcuni nobili normanni che sono partiti con la speranza di fare una carriera militare anche all'interno dell'esercito bizantino ma la maggior parte di questi nobili ha speso tantissimo tantissimi soldi per potersi permettere di andare a far la crociata perciò questa prima crociata tirando le somme tirando le conclusioni è forse l'unica crociata che nella prevalenza era motivata con sentimento religioso questo primo video della playlist delle crociate è stato abbastanza lungo ma spero che in ogni caso vi abbia fatto vedere delle cose che non sapevate e delle cose importantissime e interessanti in ogni caso noi ci vediamo alla prossima al prossimo video che parlerà della prima crociata parlerà parleremo dettagliatamente di tutti i movimenti di tutte le battaglie della prima crociata vi saluto vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo alla prossima